Finalmente il round 1 di questa stagione di Formula 2 è la nuova stagione. Vai con l'intro! Hey ragazzi, buah a tutti e bentornati sul canale come sempre. Qui è il vostro Alice che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui come detto quindi per il primo round di questa stagione di Formula 2, la prima stagione di Formula 2 per la 1 in 1 Racing Team di Alice Adamson. GPD Yokohama in Giappone, se non ricordo male, è la prima volta che corriamo su questo circuito, non sarà cosa facile, visti i risultati nei test prestagionali sappiamo di dover migliorare, ma è normale, abbiamo scalato due categorie in due stagioni, quindi cercheremo di fare il possibile con il cash che abbiamo messo da parte nelle scorse stagioni. Chissà come andrà questa gara, io lo so già, andate a vederla voi. Vi chiedo come sempre naturalmente di commentare qui sotto, scrivendovi cosa ne pensate, lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. E come sempre, io vi auguro buona visione e ci vediamo al termine del video per i saluti finali. Ciao ragazzi! Eccoci ragazzi, nuovamente in postazione con Alas Adramson pronto per la prima gara di questa Formula 2 per la 1 in 1 Racing Team. Vedremo cosa saremo in grado di fare in questo primo round dei 10 che dovremo affrontare appunto in questa stagione di Formula 1. GP di Yokohama che, se non sbaglio, è la prima volta che affrontiamo, non mi pare siamo mai approdati in Giappone per una gara. Vedremo cosa saremo in grado di fare. Dobbiamo solo selezionare lo sponsor per chi dovesse recuperare naturalmente il primo episodio di questa stagione, quindi la pre-season. Vi invito ora a cliccare nell'angolo in alto a destra, recuperate e poi continuate a vedere questo episodio. Noi intanto andiamo avanti, selezioniamo il nostro sponsor, direi che sulla base di come sono andate i test prestagionali non possiamo puntare troppo in alto, quindi cerchiamo di prendere più soldi possibili. Gustavo Cruises, tredicesimo posto superiore, sarebbero 400 mila dollari, azzeccando i risultati e gli obiettivi di entrambe qualifiche e gara. E scendiamo in pista per la gara. Ricordiamo comunque che siamo in positivo sia come entrate settimanali, sia come bilancio totale, quindi non abbiamo grossissima necessità di fare cassa al momento. Comunque, Yokohama, prima round di questa stagione di Formula 2 per la 1&1 Racing Team. Continuiamo, pronti per l'inizio delle nostre qualifiche. Andiamo subito con Sofia Floersch. Primo setup, niente male, direi 45% per Sofia Floersch, meno 0,25. Scendiamo subito in pista con le Supermorbide, andiamo subito a selezionare Narahashi. Primo setup leggermente peggiore invece per Ajim, che non raggiunge il 40% utile per un meno 0,25, 38%. E quindi scendiamo anche con lui in pista con le Supermorbide, vediamo come andrà questo primo giro. Primo giro andato con Hagim, che è più veloce rispetto a Sofia, ma di esattamente 11 millesimi. Però siamo molto indietro, siamo addirittura a un secondo e sei già da Tictum, che è in testa. E ancora, no, Verstappen è molto indietro, a otto decimi da Tictum. Evidentemente la sua vettura non è così veloce, addirittura Nissan da cinque decimi a Tictum. Quindi siamo a due secondi dalla vetta. Scendiamo subito in pista per il nostro secondo giro, dobbiamo assolutamente migliorare. Saremo al 79% per un per cento, non siamo almeno 0,75. Peccato, peccato, però dovremo riuscire a raggiungere il 100% per il terzo giro cronometrato. Speriamo di riuscire a farlo comunque. Andiamo in pista a Sofia, vediamo cosa saremo in grado di fare con Ajim Narashi. Addirittura 100% per il secondo tentativo. Partiva indietro Ajim, ma ha beccato un paio di carte molto utili. Quindi abbiamo già il massimo miglioramento possibile per Ajim Narashi. Vediamo come terminerà questo giro. Purtroppo siamo nettamente in fondo alla classifica. Diciannovesimi e ventesimi con Ajim e Sofia Flores. Migliora Ajim mentre Sofia rimane nettamente ultima dietro Terada mentre Narashi sale in sedicesima con il miglioramento massimo. Quindi difficilmente saremo in grado di raggiungere l'obiettivo, credo, in questa gara. Vediamo cosa saremo in grado di fare nell'ultimo giro cronometrato. Abbiamo tutto il tempo per farlo. Scendiamo subito con Sofia Flores. Ho rischiato la carta per sbaglio. Cliccando ho sbagliato selezionando carta. Sono stato fortunato che non ci sono stati problemi. La carta era comunque più bassa rispetto alle chiavi inglesi disponibili. Con Ajim non possiamo migliorare ulteriormente. Posso solo migliorare il suo giro. Non sta migliorando Ajim. Sta migliorando naturalmente Sofia. Che sale in quindicesima. Giro migliore rispetto al compagno di squadra di oltre un decimo. Quindicesima posizione per Sofia Flores. Diciassettesima per Ajim Narahashi. Concludiamo così, quindi senza centrare l'obiettivo qualifiche. Max Verstappen in tredicesima posizione. Indietrissima evidentemente la sua vettura non è così performante. Comunque non centriamo l'obiettivo. Fortunatamente non abbiamo problemi di cash. Scendiamo in pista per la gara. Vediamo se riusciremo a fare qualcosa di più durante questa gara. Andiamo a selezionare la nostra strategia. Abbiamo le gomme medie, le più dure dell'otto, che durano dai 11 ai 13 giri. Non ci basterebbero comunque per terminare la gara. Andiamo a selezionare quindi le gomme morbide con Sofia Flores. Il carburante si consume il 3% più lentamente. Andiamo subito a forzare sia sulle gomme che sul carburante con Sofia. Vediamo invece con Ajim. Direi di tentare la stessa strategia. Faremo una gara morbide, poi pit stop morbide molto probabilmente. A meno che non ci siano particolarità durante la gara. Come safety car o qualche altro incidente. Cambio gomme 40% più veloce anche con lui. Spingiamo sia sul carburante che sulle gomme. E scendiamo in pista per la nostra gara. Si accendono le luci. 4, 5. Parte il primo gran premio di questa stagione di Formula 1. Abbiamo tra 20 minuti la pioggia. Abbiamo tra 20 minuti la pioggia. Quindi ottima la nostra scelta di montare le morbide. Perché potremmo andare direttamente al momento, a un punto in cui arriverà la pioggia. Andiamo a vedere se abbiamo qualche notizia. Non ci sono ancora notizie. Quindi aspettiamo. Quindi dobbiamo gestire le gomme. Andiamo in reazione neutra. Continuiamo a spingere ancora un po' sul carburante. Siamo in 15esima ancora con Sofia Flores. Mentre Narasci ha perso qualche posizione lì in lotta per la 17esima e la 18esima. Narasci sta provando a difendersi da Futrell. E purtroppo lo ha passato. Anche a Futrell passa anche Sofia Flores. Siamo gli unici a essere partiti con le gomme morbide. Chissà che qualcuno non voglia addirittura portare le super morbide fino al momento della pioggia. Purtroppo siamo in fondo. Perché queste gomme naturalmente non ci garantiscono quella prestazione. E dobbiamo anche gestire il carburante. Quindi andiamo su medio. Inizia il quinto giro. Siamo penultimi e ultimi. Stiamo perdendo il treno. Siamo molto indietro di prestazioni purtroppo. Siamo molto indietro. Non pensavo di essere così tanto indietro. Gli altri stanno gestendo la gomma. Quindi ho paura che passino direttamente all'intermedia anche loro. Per quando arrivi la pioggia. Vediamo che notizie abbiamo dal meteo. Sembra che la pioggia inizi piano. Quindi questo potrebbe anche aiutarci inizialmente con la gomma morbida. Che ci darà più grip. In quanto sarà ancora meno usurata rispetto a coloro che hanno le super morbide. Molti di loro comunque le stanno usurando. Secondo me monteranno prima della pioggia un altro treno di super morbide. Stanno lottando i nostri due piloti tra di loro purtroppo. Le gomme si stanno comunque consumando in fretta anche le nostre. Quindi purtroppo non possiamo forzare granché. Dobbiamo continuare così e siamo già molto lontani perché siamo addirittura con Sofia Floersha 5 secondi da Beckman che è il più vicino. Arrivano i primi pit stop. Montano un altro treno di super morbide Samaya Beckman. Speriamo di riuscire a gestire questa posizione fino al momento in cui arriverà la pioggia che dice tra 4 minuti. Vediamo. Sì e poi monteremo le intermedie per arrivare fino in fondo. Già montano le intermedie ma è troppo presto. È troppo presto. Possiamo cercare di passare addirittura a Bay 8 che pichè e nissani che erano in testa. Però abbiamo gomme molto usurate anche noi. Dobbiamo gestirle. Ci chiede le gomme da bagnato già Sofia Floersha ma è troppo presto. È troppo presto. Andiamo a gestirle. Nonostante andiamo in gestione gomma siamo più veloci. Siamo più veloci rispetto a coloro che sono davanti a noi con le gomme intermedie. Le stanno consumando tanto. Probabilmente dovremmo fare un double stack. Faccio fermare Sofia che ha una gomma un po' più usurata per prima. No. Facciamo fermare Sofia. Andiamo a spingere sul carburante e poi pit stop gomma intermedia per Sofia Floersha che è riuscita a risalire in nona. Sì. Incidente. Incidente per Narahashi. E safety car virtuale. Andiamo a gestire il carburante. Sofia Floersha in nona. Samaya la passa sotto safety car virtuale. Non credo sia fattibile. Questa safety car ci aiuta a effettuare il pit stop per montare le intermedie. Però dietro hanno già effettuato il pit stop. Abbiamo subito dietro anche Max Verstappen. Purtroppo Narahashi incidente subito alla prima gara. Ci fermiamo per il nostro pit. Montiamo le gomme intermedie. 4 secondi e 8. Finisce ora la safety car virtuale. Rientriamo in quindicesima posizione. Andiamo a spingere un po' sul carburante. Mancano 5 giri alla fine. Molto molto difficile riuscire a recuperare posizione per centrare l'obiettivo. Arriviamo sicuramente in fondo con la gomma intermedia. Andiamo a spingere un po' di più. Reazione neutra per ora. Mentre spingiamo sul carburante. Macchino ancora con gomme super soft. Sotto la pioggia che stava aumentando. Scende addirittura in quinta. Purtroppo veniamo passati da Samaya. Scendiamo in sedicesima piazza. Siamo molto molto indietro con le prestazioni della nostra vettura. Dobbiamo assolutamente migliorare. Dovremmo spendere tanti soldi per migliorare la nostra vettura. I pezzi almeno che possiamo migliorare. Mancano 4 giri alla fine per i piloti di testa. Andiamo a gestire il carburante. Sta iniziando l'ultimo giro per Sofia Floers che è in un mondo tutto suo. Samaya se n'è andato. Dietro Terada non sembra in grado di recuperare. Soprattutto con la sua gomma molto usurata. Stiamo spingendo sia sul carburante che sulle gomme. Ma finiremo sicuramente in questa posizione. Purtroppo gara in cui ci stiamo rendendo conto che siamo molto indietro con le prestazioni della vettura. Dovremmo migliorare tanto. Ultime curve per Sofia Floers che chiude in una misera sedicesima piazza. Sapevamo però... Ah no, non era l'ultimo giro. Stavo contando i giri qui sotto e Sofia non ha ancora un giro da completare. Perché eravamo molto lontani dai primi. Andiamo comunque a finire. Ciò non cambia nulla perché... Finiamo comunque in sedicesima. Anzi, acceleriamo una gara piuttosto noiosa diciamola a parte. L'incidente purtroppo di Ajim che proprio nel momento in cui avrebbe dovuto cambiare le gomme ha incidentato. Questo ha provocato appunto la safety car che da un certo punto di vista ha aiutato Sofia Floers a non finire nelle ultime posizioni. Quindi sedicesima Sofia Floers vince Tiktum dopo la pull, se non sbaglio, nelle qualifiche di ieri. Vince Tiktum. Noi concludiamo in sedicesima piazza. Non centriamo gli obiettivi. Vediamo la classifica finale della gara. Dan Tiktum su Trident. Vince la gara davanti a Morino Sato con Uni Virtuoso. Roi Nissani chiude in terza posizione a 15 punti. Non ricordo qual era stata la griglia di partenza, devo essere sincero. Antonio Fuoco che chiude in quarta piazza. Max Verstappen che naturalmente è colui che stiamo controllando con più assiduità. Finisce addirittura ottavo dopo una povera qualifica, anche una povera gara. Riesce comunque a recuperare quattro punti dalla gara. Max Verstappen. Ma anche la sua vettura è piuttosto indietro. Come prestazioni noi addirittura finiamo a più di un minuto e dieci secondi dopo la safety car virtuale e siamo in nona piazza a zero punti. Sarà molto importante acquisire punti per le prossime gare per cercare di scalare il più possibile la classifica. Classifica piloti naturalmente riflette quella che è stata la classifica della gara. Ajim Narasci in fondo, Sofia Floers in sedicesima. In Formula 1 vince Mick Schumacher su Mercedes davanti a Charles Leclerc e Lando Norris. Inizia diversamente la nuova stagione di Formula 1. Vediamo ciò che ci interessa di più però. Il peggio del peggio, meno uno, la commerciabilità per Ajim Narasci dopo questa bruttissima gara. Punti di miglioramento addirittura due per Sofia Floers, uno solo per Ajim Narasci. Continuiamo, andiamo a... Direi a prenderci con la spesa di 500.000 dollari. Può essere importante per la prossima gara la caratteristica felice. Per migliorare le statistiche dei nostri piloti. Spegniamo un pochino però sarà utile per la prossima gara, sicuramente. E dobbiamo sviluppare qualche nuovo fornitore. Abbiamo due slot liberi e andiamo a sviluppare questo fornitore, due gare, un incontro con società sussidiaria. Mentre andiamo a sviluppare anche questo stradale, direi così. Andiamo a completare Centro e Sud America, una gara. Si chiamava Deposito Mercy di Paraíso. E poi andremo a sbloccare tutto il Nord America. Non abbiamo bonus da attivare, nonostante abbiamo tanti fornitori disponibili. Torniamo quindi alla home. Abbiamo costruzione di componenti completata che ci aiuterà sicuramente nella prossima gara. Però vedete sono sospensioni ancora rosse, quindi molto basse di prestazione. Andiamo a fornirle a Sofia Fleursch, visto che la sua affidabilità era più bassa. Anche l'alettone anteriore è ancora rosso. Vediamo se abbiamo dei componenti da poter acquistare che non costino troppo. Purtroppo sono dei componenti troppo, troppo dispendiosi. Perché l'alettone anteriore ci farebbe fare uno step avanti impressionante, ma solo il 30% di affidabilità e spendiamo 6.469.000 dollari. Potremmo rubare un componente spendendo 83, ma ci rimarrebbe un punto influenza soltanto. E soprattutto, non voglio farlo, etica professionale della One in One Racing Team. Andiamo a costruire dei nuovi componenti, a spendere i soldi. Per un nuovo pacchetto sospensione andiamo ad aggirare le regole. Che aggirare le regole non significa infrangerle forzatamente, ma significa giocare con le regole. Andiamo a selezionare tutti i pezzi prestazione e andiamo a selezionare specialista delle sospensioni per migliorare le caratteristiche di tutti gli ingegneri. Speriamo esca fuori una buona sospensione che possa aiutarci, non per la prossima gara, ma tra due gare. E poi abbiamo anche un alettone anteriore in arrivo, costruzione componente completata. Alettone anteriore che diventa arancione, quindi sta migliorando anche la prestazione affidabilità a 72%, non elevatissima, 1565 di prestazione. Lo andiamo a garantire sempre a Sofia Floers che aveva l'elemento più basso e ora andiamo a svilupparne, a sviluppare un alettone nuovo, un'altra spesa di 1.150.000 dollari con specialista dell'alettone anteriore, non possiamo naturalmente aggirare le regole in questo caso, ma già diventa verde, 1631 come prestazione prevista, 80% di affidabilità prevista. Lo costruiamo, speriamo davvero che possa migliorare tanto le prestazioni della nostra vettura nella prossima gara. Torniamo alla home, abbiamo i punti disponibili da assegnare a Sofia Floers. Li assegniamo in difesa e in frenata, così miglioriamo le sue caratteristiche più basse, mentre per la gym andiamo a selezionare, direi, concentrazione che rende il pilota appunto meno propenso agli incidenti, che è quello che ha avuto appunto nella prima gara della stagione. Torniamo alla home, vediamo se abbiamo qualche elemento dello staff disponibile, perché sto pensando che comunque il fatto che abbiamo performance del giorno di gara 16 per Charlotte Barker, però caratteria giornata solo 12 e Jordi Kessler solo 9, vorrei trovare un elemento, nonostante sappiamo che comunque ho speso tanti punti influenza, mi piacerebbe trovare un elemento dello staff che abbia un performance del giorno di gara un po' più elevato. Mi dispiace averne spesi tanti nella scorsa gara e ora voler sostituire, vediamo se ne troviamo uno subito, però guardate, Patricia Aguilar è veramente ottima, però purtroppo ha troppo basso performance del giorno di gara, quindi la rifiutiamo. Proviamo un altro, direi, e poi non spendiamo altri punti, perché dobbiamo recuperarne con gli sponsor. Chris Rode purtroppo non è un buon elemento, quindi torniamo alla home, lasciamo così, abbiamo 44 punti influenza, speriamo ci bastino per le prossime spese, continuiamo, avremo l'arrivo sicuramente del nuovo alettone anteriore che stavamo sviluppando, anche la collaborazione con Stonewell Bank è scaduta, costruzione del componente completata, il nuovo alettone anteriore speriamo sia elevato, è verde, 1659, 28 in più del previsto nella prestazione, 11 in più del previsto, per cento in più del previsto in affidabilità, quindi un buonissimo elemento, stiamo nettamente migliorando, direi di assegnarlo a Jim Narahashi, che aveva l'elemento più basso, e ne sviluppiamo subito un altro per la prossima gara, andiamo a spendere, perché se vogliamo migliorare le nostre prestazioni, dobbiamo assolutamente spendere quei soldi che abbiamo da parte, costruisci i componenti, altro, altro elemento, sospensione, 1709 previsto, andiamo subito a svilupparlo, però arriverà dopo la prossima gara, dopo la seconda gara della stagione, andiamo a selezionare le nuove offerte dello sponsor, abbiamo una offerta decente da parte di Ishikawa, purtroppo quel punto commerciabilità perso da da Jim Narahashi Pesa, però non andiamo a selezionare Ishikawa, perché? Perché il primo posto, secondo posto, non andremo mai a selezionarlo, perché naturalmente siamo da fondo classifica, quindi selezioniamo Northern Airborne, perché ci prendiamo 1.250.000 dollari di pagamento in anticipo, va più che bene, ingaggiamo lo sponsor, risaliamo a 5.604.500 soldi da spendere per la vettura, naturalmente, torniamo alla home, e a questo punto direi che con questo episodio abbiamo terminato, ragazzi, perché abbiamo sviluppato tutto ciò che c'era possibile, gara purtroppo nera, ma ce lo dovevamo aspettare, perché siamo in una serie piuttosto elevata, abbiamo fatto il passaggio in due anni, di due categorie, quindi dobbiamo assolutamente migliorare la nostra vettura, già lo stiamo facendo, prossima gara, secondo round della stagione GP di Pechino in Cina, speriamo di poter migliorare con le prestazioni dei nostri piloti, speriamo di poter salire almeno per centrare l'obiettivo degli sponsor, e poi sperare per la gara dopo forse di riuscire a lottare anche per la zona punti. Vedremo, ragazzi, vi invito come sempre a lasciare un like, a commentare, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, vi invito naturalmente a guardare il prossimo episodio, che è appunto il GP di Pechino, noi ci vedremo per quel prossimo episodio, ragazzi, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!